Questo è amore. Questo è odio. Questi sono 29.373 giorni di saggezza. Un nuovo inizio. Un sogno che sogno non è. Questo è tutto nelle tue orecchie. Un desiderio proibito. Il delitto perfetto. Questa è fantasia. Un segreto svelato. Un viaggio nel tempo. È la voce che ci unisce, che ci fa sentire vivi. Questa è Storytel. Un mondo di storie da ascoltare.